La più cordiale buonasera ben ritrovati con il Tg di prealpina.it in apertura la tragedia di Giorgio Norris il 19enne di Fagnano Olona morto mentre era in vacanza in Sardegna. I genitori sono subito volati sull'isola distrutti dal dolore toccante il ricordo del padre. Il servizio di Veronica De Rio. Perdere un figlio di 19 anni all'improvviso mentre fa la prima vacanza da solo con gli amici. Sono sotto sciocco i genitori Ettore ed Emanuela Norris che venerdì pomeriggio hanno ricevuto la notizia dalla guardia costiera di Olbia. Giorgio ha avuto malore mentre faceva il bagno nelle acque di Cala Girgolu. Era partito da Fagnano Olona con gli amici per trascorrere le vacanze come premio e regalo per la maturità. Lo ha raccontato papà Ettore che era legatissimo al ragazzo. Giorgio era il figlio che tutti vorrebbero. Si era appena diplomato al Bernocchi di Legnano ed era una tradizione di famiglia, la stessa scuola che aveva frequentato il padre. L'uomo non si spiega come sia morto il ragazzo. Era un atleta, sano, nuotatore, praticava la boxe e ha fatto le visite a livello agonistico. Davvero per noi inspiegabile, ha detto, anche se i medici hanno già detto che probabilmente è stato colto da un malore mentre era in acqua, racconta la prealpina. Intanto nelle prossime ore la famiglia dovrebbe tornare a Fagnano Luna dove organizzerà il funerale del giovane. Ancora cronaca tragedia della strada. La scorsa notte nel Milanese un ragazzo di 23 anni ha perso la vita. Il servizio. Schianto nella notte a Casorezza un ragazzo di 23 anni perde la vita. Si chiamava Sisse Ismaila, era originario del Senegal e abitava a Cornaredo, la vittima del terribile incidente avvenuto attorno alle 4. L'auto è uscita in strada ribaltandosi più volte e non risultano altre vetture coinvolte. Sisse è stato sbalzato fuori dall'abitacolo ed è morto sul colpo. Gli altri due occupanti del veicolo, uno italiano, il conducente, e l'altro anche gli originari del Senegal, sono stati trasportati in codice giallo e codice rosso rispettivamente all'ospedale di Rozzano e al Policlinico di Milano. Sulla dinamica dell'incidente indagano i carabinieri di Busto Garolfo. Ed eccoci a Varese. Ormai da diversi giorni la circo greca Orfei ha lasciato la schiranna, ma le polemiche rimangono e ora si spostano sulle condizioni del prato che ha ospitato i tendoni. Marco Raimondi. Il tendone del circo greca Orfei ha terminato gli spettacoli a Varese il 21 luglio scorso, poi si è spostato. Ma non si placano ancora le polemiche, sollevate in un primo momento dalla presenza di animali esotici e dai loro ruggiti notturni. Nel terreno di Via Macchie che ha ospitato il tendone e le gabbie degli animali, dopo la partenza del circo è stata trovata una gran quantità di immondizia, tra cui scarpe usate, una macchinetta professionale del caffè non funzionante, pannelli di diverso tipo, letame di animali. I residenti sono tornati a lamentarsi e si sono domandati perché nessuno ha controllato lo stato in cui è stata lasciata l'area? Intanto il circo greca Orfei risponde alle accuse, dichiara di aver lasciato tutto pulito e parla di ennesimo accanimento nei nostri confronti. Rogo, vicino ai contatori dell'energia elettrica, questa mattina presto a Busto Arsizio. L'intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha permesso di limitare i danni. Il servizio. Fiamme di primo mattino a Busto Arsizio, per di più vicino ai contatori della corrente, accaduto oggi attorno alle 6 in Via Marconi. A prendere fuoco alcuni rifiuti che erano posizionati appunto a due passi dai contatori. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco è stato decisivo ed ha permesso di limitare i danni. Non si registrano persone coinvolte, i contatori non sono stati danneggiati, leggermente annerita soltanto la struttura. Estate, gran caldo e bagni nel lago talvolta proibiti. Succede ad Arona dove in molti oggi hanno ignorato i divieti. Il servizio è stato realizzato da Maurizio Roberto. Caldo africano nei weekend e le spiagge eronesi del basso Lago Maggiore sono state prese d'assalto dai gitanti. Tutto esaurito, il pirulino e la rotta di Dormelletto. Affollato anche il Lido di Mena, l'ernobice, il castellaccio e la madonna di Campania Resa. Ad Arona, buona affluenza alla ex bandiera blu delle rocchette a Lido, mentre sono stati presi d'assalto la ricerca di un minimo di refrigerio, gli spazi liberi al lago del Fiorriso e ricorso a Europa. Proprio alla foccia del Vevera, zona rivelata come fontemente inquinata e pericolosa dalla goletta dei laghi, c'erano il maggior numero di bagnanti, incuranti dei divieti messi dal comune. Infatti anni fa si sono verificati i trannegamenti. Molti gitanti estacomunitari che sono giunti nella zona. Tuffi proibiti anche nei giorni scorsi sul Longolago di Arona. Varese Summer Festival Show di Max Angioni, risera ai Giardini Estensi. Per noi c'erano Diego Pisati e Angelo Puricelli di Agenzia Blitz. Scende dal palco, va fino alle tribune e chiede, ma qui è ancora Varese? Il meglio di Max Angioni, accolto trionfalmente sabato sera da 1700 spettatori, mamma compresa, sta nella capacità di rapportarsi con il pubblico. Gli imprevisti non lo disorientano, lo esaltano. Da Via Verdi arriva il rumore di una moto senza marmitta, lui, prontissimo, elogia la perfetta insonorizzazione dei Giardini Estensi. Naturalmente diverte tanto lo stesso show, anche meno, giocato su smorfie, gestualità e osservazioni della vita quotidiana. Ogni tanto si scivola pericolosamente in area Pucci, davvero infelice la battuta sull'aborto in Francia, ma in generale lo spettacolo è brillante. Se poi buon Max cantonasse il copione per darsi solo all'improvisazione, la festa sarebbe più grande. Ed eccoci allo sport e alle Olimpiadi. Parliamo di nuoto, perché c'è grande attesa per la finale dei Centorana in cui lazzatese Niccolò Martinenghi, questa sera poco prima delle 22, andrà a caccia del podio. In servizio di Antonio Terveri. C'è una finale olimpica che stasera atterrà desto tutto il Varesotto. Alle 21.44, occhi puntati sui Centorana in vasca Niccolò Martinenghi. Il ranista azzurro di Azzate, che compirà 25 anni il 1 agosto, punta una nuova medaglia nel suo percorso straordinario di successi. In tribuna a sostenerlo ci sarà l'intera famiglia, il papà Samuele, la mamma Alessandra, del fratello Jacopo e la fidanzata Adelaide, oltre a tutti gli amici che lo seguiranno dagli schermi e a tutti i suoi tifosi. Ovviamente però in vasca ci sono da affrontare rivali insidiosissimi, a cominciare dall'inglese amico e rivale ad Ampiti, il cinese Chin e poi Camminga, Corbò, Shimanovic, Fink. Un parterre del roi per questa finale che promette scintille spettacolo con il Varesotto che ti fa tete. Ed ora le anticipazioni su alcuni dei temi che troverete sulla prealpina domani in edicola e in edizione digitale. Ce ne parla il collega Marco Raimondi. Grazie Luca. E dunque nel giornale di domani troveremo strade rifatte e da rifare a Varese, cioè il piano delle asfaltature, punto della situazione su quello che è stato fatto e sui prossimi lavori. A Busto Arsizio chiude l'ultimo sportello bancario a Sacconago, un disagio in più per i residenti. Varese Summer Festival, gran finale stasera con Crepe, domani ampio servizio sulla serata e bilancio dell'edizione 2024. E poi ovviamente tanto sport, riflettori puntati soprattutto sulle Olimpiadi, in particolare sul nuoto e sulla finale di Niccolò Martinelli nei Centorana. Non solo, nel giorno della scadenza della manifestazione di interesse per il Franco Ossola proporremo un focus sulle abissali differenze fra Italia e Finlandia riguardo alla realizzazione e alla qualità delle strutture. Silvio Tranquillini ha intervistato il varesino Marco Baruffato, allenatore proprio in Finlandia. Grazie Marco, bene tutto. Il Tg di prealpina.it torna domani alle 19. Buona serata.